Gianni Mura ho avuto la fortuna di conoscerlo in una sola occasione, ma mi è bastato per capire che tipo di personaggio fosse, come dici giustamente tu, era un giornalista un po' atipico, non ero a conoscenza di tutte queste sue passioni, ma conoscendolo, ripensando a quel pomeriggio che avevamo passato insieme mi aveva invitato per conferirmi un premio che adesso non ricordo se fosse legato al fair play o a qualcos'altro, però sta di fatto che era un personaggio, al di là del calibro, dell'entità del personaggio, era molto alla mano, io pensavo di trovarmi di fronte al classico giornalista così un po' spocchioso, vista la sua fama, e invece mi trovai di fronte a un personaggio estremamente umile e cordiale e quindi ho sicuramente un buon ricordo di Mura sia come giornalista che come persona.